I carabinieri di Lodi hanno fermato su ordine della procura della città lombarda un uomo nordafricano di 27 anni con l'accusa di aver violentato una donna mentre faceva jogging il 23 dicembre dello scorso anno allocato di tre ulzi nel milanese, il provvedimento è già stato convalidato dal GIPER di Milano I militari coordinati della procura ludigiana hanno ricostruito la dinamica dell'aggressione e della violenza e hanno raccolto a carico dell'uomo ora in carcere gli indizi di colpevolezza per il fermo e ricostruito cosa è accaduto la donna, aggredita mentre faceva jogging da sola e trascinata nella boscaglia dove è avvenuta la violenza Il fermo è stato eseguito a San Donato milanese e pertanto della convalida si è occupata per competenza la procura di Milano da dove gli atti verranno trasmessi a Lodi per il proseguimento dell'inchiesta